una pallina da golf non solo la mano, non solo la pallina e la pallina si stoppa e vi mettono due palline per tornare di nuovo a essere una pallina sola lo rifaccio pallina due palline prendiamo uno due palline uno due tre palline prendiamo una pallina invisibile c'è la mancia e abbiamo quattro palline prendo la pallina faccio tornare di nuovo a essere invisibile